La chiamata è arrivata all'improvviso, come se il nostro nome fosse stato urlato a gran voce durante la scelta dei tributi. Che sia stato col romanzo di Susan Collins nel 2009 o con i film guidati da Jennifer Lawrence dal 2012 in poi, una cosa è certa, tanti di noi hanno partecipato al fenomeno Hunger Games. Una saga generazionale che ha lasciato un segno nella cultura pop, che in questi giorni ritorna con un prequel, la ballata dell'osignolo e del serpente. Un franchise che ci è rimasto sotto pelle, col suo cinismo esasperato eppure credibile. Ma come mai Hunger Games ha avuto così tanto successo? Alzate le dita verso il cielo, iniziate a fischiettare e proviamo a capirlo insieme. Tra le saghe di genere young adult che hanno spopolato dieci anni fa, Hunger Games è forse quella più iconica e anche la più riuscita. Merito di un'idea che per quanto non particolarmente innovativa, non serve ricordare quanto la saga di Hunger Games ricordi le premesse e il personaggio di Battle Royale, vero caposaldo della letteratura e del cinema giapponese, è riuscita a colpire in maniera perfetta il sentimento comune adolescenziale di quegli anni. Hunger Games è prima di tutto una storia di sopravvivenza. Lo è nella dimensione più ludica quella dei giochi che anno dopo anno obbligano 24 giovani tra i 12 e i 18 anni a uccidersi tra loro in un'arena, fino a proclamare un vincitore, il solo superstite. Ma lo è anche per tutti i poveri cittadini di Panem, la nazione immaginaria la cui capitale è Capitol City, che non possono far altro che rispettare silenziosamente il destino a loro riservato dal presidente Snow. E infine, è una storia di sopravvivenza per la stessa Capitol City, che col terrore e la propria ricchezza si erge in cima alla piramide e deve fare di tutto per evitare la sua caduta. In questo mondo di fragili e violenti equilibri, Susan Collins ha reso Hunger Games una saga in cui la morte è onnipresente. Senza censure, senza il desiderio di renderle un semplice spediente narrativo, l'ansia e la paura di morire caratterizzano l'universo di Hunger Games, con il risultato di rendere la saga più matura del previsto per il pubblico a cui si rivolge. Una necessità di sicuro, ma anche un atto di fiducia comunicativo tra l'autrice e i suoi lettori, come a ridare dignità agli adolescenti, anche se soffocati da un mondo adulto a loro incomprensibile, a cui non possono far altro che resistere, il più delle volte in maniera silenziosa. Adolescenti che sono semplici pedine di un gioco a cui non vogliono partecipare, personaggi di un reality show violento e non persone con una propria dignità. La distopia è quella di un regime totalitario, di una nazione immaginaria, ma il fondo di realtà rimane. Hunger Games è riuscito a dialogare con gli adolescenti con una schiettezza sconcertante, ridando loro vita in un mondo che gliela divora. La ribellione guidata da Katniss, straordinaria eroina contemporanea, diventa un tornado di energia vitale, quello che viene raccontato nel corso della trilogia e nei primi quattro film. È la storia di un adolescente che finalmente ha il coraggio e la forza di parlare in un mondo di adulti che esigono la bocca chiusa. Una metafora a dimensione di giovane molto vincente è sempre attuale, segno che Hunger Games ha anticipato un discorso che oggi si dimostra sempre più urgente e sentito. Quando la voce di una protagonista di finzione diventa voce di milioni di adolescenti, ecco che si crea il fenomeno generazionale. Nell'immediato è un insperato boost di vendita e di amore verso il tiro con l'arco, l'arma che usa Katniss e che diventerà il suo simbolo. Ma pian piano diventa un universo narrativo su cui vengono compiuti studi accademici. Il mondo di Panem diventa specchio per gli adolescenti per capire e comprendere al meglio i problemi dell'America di oggi. Come se non bastasse il saluto delle tre dita con la mano che i protagonisti compiono durante il film e i libri, è diventato simbolo di rivolta anche nel mondo reale, specialmente in Oriente, tra i movimenti pro-democrazia asiatici, ma anche nelle Filippine e talvolta pure in America per esprimere dissenso verso l'autorità, segnale inequivocabile di come Hunger Games abbia un posto importante nell'immaginario culturale del nuovo millennio, tanto da diventare voce politica. Come ogni storia capace di colpire un pubblico vastissimo, anche in Hunger Games è presente una storia d'amore, con il classico triangolo sentimentale che forse soprattutto nei film della quadrilogia è l'unico elemento gestito non nel migliore dei modi. Eppure questa presenza così forte del sentimento d'amore si dimostra ancora una volta essenziale ai fini della narrazione, come fosse l'unica ancora di salvezza nei confronti della morte, della violenza e del silenzio. Come se fosse l'obiettivo finale di ogni azione compiuta, si vive per amore e si ama per vivere. Non è un caso che la trilogia originale, i quattro film che l'hanno adattata, si concludano con un balzo in avanti di 15 anni, dove Katniss e Pita finalmente sono riusciti a vivere come meglio desideravano. E non è un caso che la ballata dell'usignolo e del serpente, prequel che racconta come Snow è diventato presidente di Capitol City, abbia una storia d'amore come perno centrale delle vicende. Al di là dell'epilogo, che può essere positivo o negativo, la sensibilità nei riguardi di questo sentimento aggiunge un ulteriore tassello all'importanza della saga. Perché l'amore diventa comprensione, ma può diventare anche motore del male. Quasi fosse un altro modo di chiamare la fortuna, quella che nel mondo antico descriveva sia la buona che la cattiva sorte. Nessuno ne sente, anche se a prima vista potrebbe non sembrare così, e la scelta di usare come protagonista Snow per il prequel dona una nuova essenziale luce alla saga. In Hunger Games c'è chi ama e chi ama troppo, e quel troppo può rovesciare la medaglia. Un discorso che anche in questo caso sembra essere più contemporaneo e stimolante da affrontare, basti vedere il finale dell'attacco dei giganti, che rende Hunger Games un evergreen incapace di risultare fuori dal tempo. Perché non si può fare a meno di amare, soprattutto in un mondo distopico che sembra non appartenerci, costi quel che costi. Allora, ancora una volta felici Hunger Games e possa la fortuna essere sempre a vostro favore. E voi siete d'accordo con la nostra analisi? Secondo voi qual è il segreto del successo di Hunger Games? Fatecelo sapere nei commenti, noi ci risentiamo presto, sempre qui sugli schermi di Screamward.